allora questa è la montatura che faccio io per la pesca bolognese dalla spiaggia le orate spigo le lecce una lenza un po' polivalente insomma si riesce a prendere un po' di tutto difende un po' da come la corrente da come il mare da sopra e soprattutto da che pesci passano sotto le nostre esche e io pesco così pesco con un galleggiante fiumbato di 3 grammi sul filo bobinato di uno 0 15 galleggiante piombato di 3 grammi poi 8 pallini a scalare del numero 8 fino a tarare insomma quasi perfettamente il galleggiante considerando che domani il mare sarà calmo io lo tarerò circa fino a qui in modo che riesca sempre ad avere visibile la starlight del galleggiante 8 pallini del numero 8 l'ultimo come vedete va a finire a circa 3 4 cm dalla girella dove ho collegato uno 0 10 un fluorocarbon dello 0 10 con un amo del numero 14 a occhiello perché è un amo si grosso molti pescano 18 20 anch'io a volte ma adesso ci sono le orate e con quei con quel tipo di lamo insomma molto spesso si possono slamare detto perché sono pesci che hanno flacche osse molto grosse quindi io numero 14 con l'occhiello e le mie orate le prendo sempre e poi niente è tutto qui